Benvenuti, oggi vi presentiamo la videocamera di solverglianza D-Link DCS2210L. All'interno della scatola troviamo il CD per l'installazione del programma e le guide, la videocamera, delle spine elettriche, le viti per poterlo posizionare sul muro, il cavo Ethernet, la base e il cavo della corrente. La videocamera fornisce un servizio di qualità con video in HD a 1080p con visione notturna e audio stereo. Per avviarlo basta attaccarlo alla presa della corrente, anche se può funzionare senza, grazie al suo supporto PoE. Per l'installazione, attaccare il cavo Ethernet alla videocamera e poi al router e inserire il CD per l'installazione guidata. Inserendo una microSD, registra immagini e video attivati dal movimento o dai rumori grazie a rivela movimenti Peer Detection. Per la recensione completa sul prodotto seguite il link nella descrizione e ricordatevi di visitare il nostro sito www.migliorprezzo.it www.migliorprezzo.it